Amici e guardoni degli scacchi ben ritrovati, proseguiamo finalmente dopo un certo tempo dedicato agli zombie la caccia ai bot di chess.com, episodio non so neanche più quale andiamo su a 1.800 di rating, qui l'aria si fa veramente veramente rarefatta contro il primo italiano, Lorenzo Lorenzo da Vinci, Lorenzo dai Vinci qui a destra è un cantiere nella provincia di Udine, mi piaceva, l'ho fotografato bene, sentite, dai, bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo a giocare con questo Lorenzo allora, io starei nel mio seminato e gioco 1d4 cavallo f3, cioè scusatemi, cavallo f6 difesa indiana, io ho imposto il mio sistema di Londra d6 potrebbe darsi che prepara uno schema tipo est indiana io gioco e3 esatto, oh bene allora, contro gli schemi est indiani come avete già visto in un mio video passato io uso questo sistemone con il cavallo in c3 e poi sparata del pedone h donna dunque fatemi ricordare, così lui dovrebbe fare così io intanto magari sposto l'alfiere qua poi faccio così va bene, dai, via temporeggia l'amico Fritz temporeggia allora temporeggerò anch'io arca miseria eh, mi manda già fuori 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 pista qua eh, potrei arroccare lungo dai, arrocchiamo lungo ah, attenzione alfiere f5 punta qua io questo alfiere glielo glielo controbatto subito mhm ho perso un tempo con la donna eh, però niente di di gravissimo suppongo adesso eh, sviluppiamo l'altro cavallo ok mi sembra tutto lecito fin qua tutto lecito domandare lecito rispondere è cortesia qui è il momento di grande bivio grande bivio posso arroccare lungo e impostare questo tipo di partita arroccare corto e fare una partita più tranquilla tenere presente che in ogni momento che lo desiderassi posso giocare e4 l'unica cosa che mi perplime un po' è questa mossa qua ah, cavallo h5 mi cambia l'alfiere presa presa si, si apre la torre però io ho il mio alfiere che è un po' scuro ma vabbè proviamo a arroccare lungo dai, vediamo cosa succede a g5 via ok 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 questa per fare questa lui fa questa però allora calcoliamo un po' se io faccio i 4 lui potrebbe fare g4 ma attacca il cavallo io il cavallo lo posso spostare qua proviamo i 4 va mi sembra una mossa sensata infatti così benissimo ok 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 baby uh questa è buona adesso così bene 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 dunque posso prendere subito posso prendere qua hmm allora calculemus come dicevano certi presa presa o meglio ancora presa presa con tempo sulla donna cambio riprende di pedone presa presa andiamo in un finale se io prendo qua e lui prende qua con minaccia sul cavallo io da qui cosa posso fare no posso no non posso fare una mazza eeeh ma boh dunque la linea critica qua è prendere prendere mi attacca il cavallo hmm poi io prendo qua lui prende il cavallo si dovrebbe andare bene credo boh ok non ha giocato la linea critica siamo a posto così ok adesso questo problema qua cosa si può fare spinta non direi questo è interessante questa mossa qua interessante presa presa proviamo a far così va così apriamo la colonna G ok oh bene 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 mi sembra che stiamo andando discretamente io io ipotizzo insomma ecco adesso presa presa niente hmm facciamo eeeh dunque per esempio per esempio la torre qua non è male anche l'alfiere qua non è male aspettiamo la torre qua ah si sposta potrei dare anche uno scacco non serve però perché viene qua cominci a diventare delicata qua la faccenda presa 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 e mi apro la torre e va bene presa prende di cavallo mi attacca la donna no io prendo questo questa adesso facciamo così apriamo la colonna per la torre ok ok perfetto mi sembra che stiamo andando abbastanza bene adesso scacco oh posso guadagnare del materiale ragazzi scacco il re si sposta boom 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 una torre per due cavalli può essere un'idea può essere un'idea alternativamente un po' più sicuro come approccio è questo che mi piace anche un po' di più questo per attaccare questo e se sposta questo questo cade ora qua se faccio alfiere h4 lui deve venire a difendere il cavallo con il re una volta qua con il re prendo si no questa è buona meglio ancora mi sembra ah ecco presa e guadagno un pezzo pulito oh mi grande si si leonardo dai vinci bene adesso la mossa ovvia qua è scacco la mossa ovvia io ho quel problema qua ho questo cavallo che fa schifo fa schifo ai preti vabbè scacco non penso possa essere una mossa sbagliata no scacco lui copre e poi potrei venire qua e raddoppiare le torri per esempio scacco lui copre questo cavallo fa schifo se io faccio così e così devo muovere la donna ovviamente che è in presa così però mi dispiacerebbe perdere questo pedone facciamo così qua scacco e alziamo il pedoncino ok e questa mossa che senso ha eh caro mio ah vuole entrare qui ma si solo che qua affischia l'ultima traversa è blindata c'è anche da dire che quest'attore qui non fa niente devo liberare sto cavallo niente ci spostiamo di nuovo qua direi se lui prende io gli cambio le torri al volo donna ah no questa mossa non mi piace scacco scacco no scacco oh ha spostato la donna qua ha lasciato questo punto morbido scacco ok potrei anche cambiare e direi che andremo più che bene qua ho pedone 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 ho tre pedoni in più un pezzo in più si cambiamo il volo via ok adesso questo qui è passato così pedone sotto difendiamo raddoppia raddoppio anch'io ok così blocca mi blocca la spinta del pedone adesso così così oppure così 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 se faccio così lui potrebbe fare così no questa è la mossa giusta ah no ok esatto così mi ha chiuso la casa per il per l'equino per la cavalla allora niente facciamo questo giro qua ok così e così no dunque così qua sarebbe una bella casa di atterraggio così e così ecco così facciamo allora uno due spingiamo ancora perfetto perfetto ok sono sempre erognose da vincere queste partite qua così 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 facciamo questa minaccia qua no perché vi lascio scoperto questo pedone che due scatoloni a parte che adesso siccome il cavallo difende il pedone questa torre difende qua io potrei anche se faccio così presa 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 direi o così anche lui spinge io vengo qua e faccio strike non so se inizio trattore D7 presa presa lui si avvicina io metto la torre qua e poi vado in giro col cavallo no steniamo la tensione così ok scacco signori e signore scacco bene sempre sempre attenzione qui ma ah potrebbe entrare qua il 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 merda vabbè è una grave minaccia no difendo la torre ok andiamo prendiamo questo pedone così buona ok va bene ragazzi dai adesso ho 42 pedoni passati mettiamo qua che difende questo hop hop sono un po' sadico io forse quindi qui presa 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 sì potrei anche darglielo un pedone per cambiare per cambiare le torri voglio dire così così lui prende e io però spingo e io però spingo evviva signori è festa oggi adesso lo mettiamo qua che è tenuto dal cavallo andiamo a farci una donna o una torre e gli diamo matto , facciamo torre va siamo eleganti scacco matto alla prossima è matto bene signore mi pare di aver giocato in maniera davvero davvero egregia sono proprio contento andiamo anche a vederci l'analisi a questo punto qua vi tolgo il cantiere della provincia di Udine come si fa qua immagine via Leonardo dai vinci no Leonardo ha perso no niente meglio che non la facciamo l'analisi perché qui se la ricerca errori va avanti 15 giorni va bene no mi sembra di aver giocato una bella partita direi diciamo avevo un setup abbastanza aggressivo di attacco però lui ha giocato prudente io anche io ho giocato prudentemente mi sembra di averlo mantenuto in una posizione inferiore con meno spazio i pezzi legati lui non ha giocato granché bene devo dire e niente poi ho approfittato di quel cavallo l'ha lasciato lasciato per aria e di lì poi è andata via valanga personalmente per me la parte psicologicamente più difficile delle partite è quando sei in vantaggio e devi chiudere ma lo è una roba che detesto ma insomma detto questo sono molto contento della partita la ricerca errori continua quindi lasciamola pure continuare carissimi vi saluto vi ringrazio vi invito a mettere like a iscrivervi a commentare e ci sentiamo presto fate i bravi ciao